ciao allora oggi spacchettiamo lo squish pizza apriamo sì allora quindi prima bisogna pescare no pesco la prima allora questo cos'è questo è un fungo è raro epico legge alla fine troverai il bigliettino e ti dirà qual è apro non li apri con uno squiscio poi c'è dentro non ci sono cosa questa è una pizza funghi e patatine e questo è il bonus questo cos'è deve tutte le cose che hai trovato sono leggendario è tutto leggendario ora gira quella busta ok vedi che c'è scritto unghie attenta devi tagliare il più bordo possibile zia non so se ti stanno perché li ho fatti a misura bene proviamo allora questo è il pollice pollice poi questo questo no questo questo e questo ciao